Dal 2013 tecnologia, creatività ed ingegno collegano la città da nord a sud-est. La metropolitana leggera automatica di Brescia trasporta ogni anno più di 15 milioni di passeggeri. Le vetture elettriche viaggiano autonomamente su rotaia lungo un percorso interamente protetto. Questo innovativo sistema viene gestito in modo sicuro e automatico dal posto centrale operativo, cervello del sistema, attraverso una rete di apparecchiature nelle stazioni, sui treni e lungo tutta la linea. Abbiamo pensato a stazioni accoglienti, confortevoli e accessibili a tutti. La luce naturale dall'alto sottolinea la cura estetica e i materiali. Ad accompagnare i passeggeri in questi spazi, moderni sistemi di telesorveglianza, comunicazione e informazione. Il gruppo Brescia Mobilità ha ridisegnato molti dei propri servizi intorno alla metro, creando un sistema capillare e sostenibile. Chi raggiunge in auto la città può usufruire gratuitamente dei parcheggi di interscambio, mentre le linee degli autobus, indicate anche all'interno dei treni, toccano tutte le stazioni della metro. L'offerta si completa con le postazioni di Bike Sharing Bici Mia e il servizio di Car Sharing Automia. È inoltre possibile trasportare gratuitamente in metro la propria bicicletta, tutti i giorni, senza limitazioni di orario. Titoli di viaggio integrati e diversificati per ogni esigenza consentono la piena libertà di movimento. L'avvento della metropolitana è stato elemento propulsore e di rinnovamento per tutto il sistema. I passeggeri complessivi sono aumentati del 20% in due anni, in controtendenza con la media delle città italiane. L'ingresso delle auto in città e il relativo inquinamento sono diminuiti, portando Brescia al quinto posto nella classifica della mobilità sostenibile in Italia.